Laboratori per grandi e piccini, antichi giochi della tradizione e momenti di intrattenimento. Sullo sfondo alcuni fra i simboli più iconici della tradizione pugliese. Per tre fine settimana il Grand Shopping di Molfetta si trasforma in una vetrina speciale per manufatti e pezzi di artigianato del territorio. Un modo per far conoscere ancora meglio ciò che la regione offre a cittadini e turisti in un viaggio molto suggestivo fra passato e presente. Le tradizioni insieme ai grandi eventi, insieme alla capacità di promuovere l'artigianato artistico nella nostra regione stanno diventando un prodotto turistico tutto tondo, sempre più importante soprattutto se si pensa che la Puglia è sempre stata considerata una destinazione balneare ma chi arriva in Puglia ormai lo fa sempre di più perché sa di trovare una grande tradizione no gastronomica, sa di poter contare sulle tradizioni, sul prodotto cultura, sui grandi eventi. Per tre weekend il centro commerciale ospita una vera piazza pugliese nella quale è possibile rivivere le emozioni delle feste e delle sagre che hanno reso famosi i borghi della regione in ogni parte del mondo. Ma c'è spazio anche per la creatività con due porte decorate con le cone della Puglia e con i laboratori che giorno dopo giorno hanno come protagonisti materiali diversi come gusci di cozze o di ostriche maneggiati con cura da artigiani, professionisti ed esperti pronti a raccontare la propria arte a grandi e piccini. Una serie di laboratori didattici, divertenti per scoprire quelle che sono le tradizioni e l'erradicamento con il nostro territorio. Verranno realizzati una serie di laboratori con delle associazioni locali che appunto inviteranno i clienti a svolgere attività come il decoupage, come la lavorazione del Vimini, la realizzazione di calamite con le famose cozze tarantine.